e ve l'abbiamo detto oggi una puntata davvero ricca di spunti di riflessione tanto su cui insomma soffermarsi perché comunque la vita è fatta di tante cose e noi adesso presentiamo un bellissimo gruppo attivissimo e della campagna in particolare di salerno sono tanti ragazzi che si sono messi insieme il gruppo si chiama starlight e ci ha mandato un video bellissimo di presentazione dei santuari che insomma sono presenti a salerno quello di oggi è non so se tu lo sai la santissima annunziata ma bravo visto ma bravo questo gruppo è capitanato da concetta daniello noi lo guardiamo insieme ma soprattutto ascoltiamo perché poi si dedicano anche al canto non so se tu lo sai la santissima lo sai la santissima Grazie a tutti. Grazie a tutti. Maria, madre di tutti noi, o Maria, vieni nei nostri miseri cuori, diventa protagonista del nostro vivere. Aiutaci ad affrontare le difficoltà del quotidiano, sapendoti nostra madre e nostro astro guida. Silenzia i nostri pensieri per permetterci di contemplare il tuo divino volto. Ridona calore umano alle nostre relazioni, svilite dalla fretta di fare il superfluo. Colma le nostre mani, tanto affaticate ma tanto vuote, con la tua bontà e la tua misericordia. Tu che portasti nel tuo purissimo grembo l'incarnazione dell'amore più grande, rendici degni di essere chiamati figli tuoi. Grazie. 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 Caratterizza la nostra vita la musica e caratterizza le nostre tavole la pasta dici cosa c'entra è vero non di solo pane vive l'uomo anche di pasta oltre che dalla parola di Dio prima di tutto noi ci crediamo però adesso ci soffermiamo su un evento in modo particolare le telecamere di Padre Pio TV insieme a Nicola Morcavallo sono andati a visitare lo stabilimento e hanno incontrato Francesco Di Vella con lui si sono soffermati sull'importanza di questo settore per il benessere alimentare e dell'economia grano dure e grano tenero che vengono realizzati all'interno dello stabilimento dopo che è stata pulita e che è stata idratata la granella che subisce il primo processo di decorticazione esterna e poi diversi passaggi attraverso i quali perde delle parti grezze perde la cosiddetta parte bruscale le fibre e qui invece c'è un campione di grano tenero che ha un aspetto una sembianza diversa perché è più scuro più tozzo e meno vitreo rispetto al grano duro anche questo subisce gli stessi passaggi e diventa diciamo farina pura una giornata in cui gli stabilimenti aprono al pubblico qual è il senso di questa iniziativa? Oggi è la seconda giornata nazionale di Molini a Porta Aperte come diceva l'Associazione Nazionale dei Mugniali Talmopa celebra nella giornata odierna l'apertura degli stabilimenti ad un pubblico di visitatori al fine di mostrare loro in tutta trasparenza senza filtri senza nessun tipo di censura quello che è il processo di produzione dei molini italiani a grano duro o a grano tenero nella fattispecie la Divella ha aperto lo stabilimento del molino a grano duro quindi per la produzione di semola per i nostri pastifici e mostrare loro il processo produttivo che nel corso degli anni sostanzialmente non è cambiato è un viaggio nella riscoperta delle antiche tradizioni di produzione della semola e della farina avvantaggiate dal fatto che oggi attraverso e grazie alle nuove tecnologie riusciamo a offrire ai nostri consumatori un prodotto di alta qualità standardizzato che risponde appieno ai parametri igienico-sanitari e cerca di andare incontro ai quotidiani continui cambiamenti di gusto del mercato dei consumatori per cui nella giornata odierna vogliamo aprirci per così dire al mondo dei consumatori e mostrare loro il nostro impegno il nostro sforzo che si protrae dal 1890 quando è nata questa azienda in questi comuni comuni di Lutegliano e Necattaro e che attraverso quasi 130 anni di storia l'ha portata ad essere tra le primissime realtà nazionali è presente in tutti i cinque continenti in circa 90 paesi con i prodotti finiti ovviamente Qual è lo stato attuale del settore? Il settore molitorio italiano nel corso degli ultimi vent'anni si è più che dimezzato da 800 unità degli anni 90 siamo arrivati a circa 230-240 molini in Italia il settore molitorio italiano ha bisogno di soprattutto nel segmento del grano duro ha bisogno di circa 5 milioni e 700 mila tonnellate di grano per il suo fabbisogno e lo ricerca disperatamente nel nostro paese e nei nostri suoli nella nostra agricoltura ma lo ricerca con affanno perché la nostra agricoltura non riesce a venire incontro alle esigenze dell'industria italiana che non solo in Italia ma soprattutto in tutto il mondo viene riconosciuta di primissimo livello sono il primo posto in assoluto per l'alimentare per cui siamo deficitari ogni anno di almeno il 30-35-40% di materia prima sia grano duro che grano tenero per cui diciamo che il settore è purtroppo combattuto tra la volontà di volersi approvvigionare solamente di grano italiano che non è sufficiente e la necessità di doversi approvvigionare dall'estero In conclusione di Vella un punto di riferimento non solo per il settore ma anche per la stessa economia del territorio e anche a livello nazionale? Beh, direi di sì perché oggi il gruppo impiega oltre 300 unità possiede due controllate in Australia che si occupano di commercializzazione dei prodotti finiti da noi prodotti e da loro venduti e che ha un indotto di diverse centinaia di unità lavorative che servono e che collaborano con la nostra azienda che sono dislocate soprattutto quasi in via esclusiva nella nostra regione e in alcuni casi anche fuori regione ma sono pochi sparuti casi e siamo considerati credo a ragione un punto di riferimento che ama crescere col tempo che ama i suoi collaboratori che li mette al primo posto e che li considera indispensabili per raggiungere i risultati che oggi possiamo vantare e insomma siamo entrati in uno stabilimento per scoprire come si fa la pasta come si produce come c'è la trasformazione come avviene la trasformazione perché noi siamo abituati a vederla già pronta a tavola in un piatto invece c'è tutta una lavorazione che insomma richiede tantissima attenzione e cura ma c'è un lavoro importante come penso ecco in tutti gli altri tutti gli altri settori saremmo forse bravi a mangiare quello che ci viene proposto ma quanti di noi pensano che dietro a tutto quello che ci viene presentato come già fatto c'è un lavoro un lavoro grande un lavoro faticoso che inizia già dalle campagne con il grano eh sì però insomma chiediamo alla livella di fare anche un po' di pasta dietetica eh magari perché sarebbe proprio l'ideale ecco mangiare perché a noi piace la pasta e non ingrassare insomma siamo partiti alti e adesso siamo diventati un po' più leggeri ci avviciniamo anche all'ora del pranzo ovviamente tanti poi escono vanno a messa fanno la solita la classica passeggiata domenicale insieme alla famiglia e ci si ritrova poi intorno ad una tavola ecco e ci ritroviamo ci ritroviamo grazie Don Pasquale grazie a te grazie a tutti ci vediamo la prossima settimana anche perché è la conclusione della nostra stagione televisiva dobbiamo salutarci eh sì sì tenetevi pronti buona domenica a tutti e grazie ciao alla prossima grazie a tutti